Cia Confezionatrici vi presenta la sua ricca gamma di macchine pesatrici e confezionatrici per caffè in grani e in polvere. Iniziamo con le soluzioni semi-automatiche. La nostra pesatrice BG Easy Kiss pesa sia caffè in grani che caffè macinato grosso, oltre a tantissimi altri prodotti. Il modello più grande BG Easy è adatto a chi deve realizzare pesi medio-grandi. Possiamo utilizzare vari sistemi di carico, manuale, con nastro di carico o con trasportatore pneumatico. Quest'ultimo sistema è assai pratico e conveniente. Trasporta il prodotto in perfetta igiene, velocemente e nel contempo delicatamente, senza rovinarlo. La BG Easy Kombi è la soluzione per pesare caffè macinato, sia fino che grosso, oltre a tantissimi altri prodotti polverosi. Una volta pesato e riversato il caffè nei sacchetti preformati, passiamo a sigillarli con la nostra saldatrice Mini Sealing. Dotata di kit di stampa, è disponibile anche in versione verticale. Col nostro kit possiamo sigillare in sottovuoto le tradizionali confezioni a mattonella, oltre che moltissimi altri formati di varie dimensioni. Passiamo ora a vedere alcune nostre confezionatrici automatiche, che formano il sacchetto a partire da bobina. Dotate di teleassistenza adeguabili a Industria 4.0, possono essere fornite di vari accessori, come una stampante, un'etichettatrice e un applicatore di valvole di degassazione per caffè. Grazie alla lunga esperienza nel settore del caffè, possiamo consigliare e personalizzare su misura le nostre macchine, sia per piccole realtà che per torrefazioni medio-grandi. Sono già migliaia i clienti in tutto il mondo che hanno scelto Cia Confezionatrici. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.csrl.it o il nostro canale video www.confeziona.it Cia Confezionatrici dal 1986 vestiamo i tuoi prodotti in tutto il mondo.